Le carte fiastrenzi dalla pergamena al digitale, il titolo del convegno che si è tenuto alla Badia di Fiastra, promosso dalla Fondazione Carima, dalla Fondazione Giustiniani Bandini e dalla Diocesi di Macerata. Si tratta di un fondo diplomatico di pregevole valore storico-culturale, formato da oltre 3.000 pergamene datate dal secolo XI al XVIII, conservate presso l'archivio di Stato di Roma e ora digitalizzate. La digitalizzazione è uno strumento fondamentale per la conservazione, perché innanzitutto mette questi pezzi che hanno la loro preziosità in sicurezza, ogni tanto manca sempre una pergamena da una collezione, va fuori posto, il digitale ci mette in sicurezza per questo. E poi ci offre una capacità di gestione che è senza pari, perché le pergamene non sembrano, noi le vediamo sempre come pochi prodotti preziosi, ma sono tantissime soprattutto in Italia. Quindi per orizzontarsi in questa foresta di materiali pergamenacei, di difficile lettura, avere questi strumenti, possibilmente con le trascrizioni o con quelli che i tecnici chiamano reggesti, noi li chiamiamo abstract nel linguaggio di oggi, è fondamentale. Professor Borri, che tipo di lavoro è stato fatto, l'importanza della digitalizzazione, di quali valori parliamo? Parliamo di un valore unico per le marche, che sono appunto le pergamene del Fondo Fiasta, 3197 pergamene che per la verità in passato sono già state studiate per una parte, per un terzo almeno, negli anni recenti sono stati pubblicati otto volumi di queste pergamene, però copre appena un terzo. Ora questo lavoro è meraviglioso perché dà la possibilità a tutti gli studiosi che vogliano è di accostarsi, di vederle sul sito e quindi è possibile per ciascuno che ne abbia chiaramente le competenze perché bisogna conoscere il latino, il latino medioavale, la paleografia, le abbreviazioni, però rendersi conto personalmente subito di questo documento e quindi evitare di andare a Roma, di vederle sul posto eccetera, insomma, quindi è un servizio fantastico per gli studiosi competenti. Questo sicuramente va dato atto alla fondazione, diciamo, Cassa di Risparmio di Macerata. C'è qualche pergamene in particolare da segnalare? Beh, le pergamene sono tante, tantissime, 3197 e c'è di tutto. Peccato che nella documentazione manchino i documenti più importanti, più solenni, perché sono stati asportati in passato, quindi diplomi di imperatori, di pontefice eccetera. Ce n'è soltanto uno del 1210 dell'imperatore Ottone che è quello che fonda, diciamo, alcune grance fastrenzi, le prime grance, quindi è l'unico documento di una certa consistenza a livello di documentazione pubblica.